Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben trovata alla dottoressa Cristina Ombra, psicoterapeuta. Ciao Cristina. Ciao Beatrice, grazie per l'invito. Allora saluto la dottoressa Cristina Ombra, vi ricordo che questa nostra parentesi che facciamo legata alle dipendenze è in partnership con Studi e Salute Bolgan. Detto questo oggi ci occupiamo di un fenomeno che sta prendendo piede in maniera preoccupante in Italia, ma è già fenomeno nel resto del mondo, in particolare dalla parte asiatica e quindi dal Giappone. Il fenomeno degli Ikikomori che in italiano però suona sempre con Ikikomori, tu che sei esperta anche della lingua giapponese, insomma dici quindi la pronuncia corretta è Ikikomori. Sì, la pronuncia corretta è Ikikomori e Ikikomori è una parola che deriva dal gergo giapponese e che letteralmente significa stare in disparte. E come dicevi tu parliamo sempre delle dipendenze, ci muoviamo in quest'ambito, anche perché il fenomeno degli Ikikomori spesso è connesso a quella che è la dipendenza da internet, anche se non sempre necessariamente in questo ambito c'è la dipendenza da internet. Intanto Ikikomori viene definita una sindrome culturale, proprio perché nasce all'interno della cultura giapponese e anche per quanto riguarda l'aspetto diagnostico è proprio definita all'interno del DSM V una sindrome culturale. Questa parola è stata utilizzata per la prima volta alla fine degli anni 90, anche se questo fenomeno si è presentato proprio in Giappone all'inizio degli anni 80. Questo tipo di fenomeno ha una caratteristica precisa e quindi è, come dicevi tu, l'allontanamento dalla vita sociale. Riguarda i ragazzini, ma potrebbe riguardare anche gli adulti? Assolutamente sì, tant'è vero che all'inizio degli anni 80, quando è stata prestata attenzione a questo fenomeno, il problema è stato visto e analizzato da un punto di vista psichiatrico, cioè come un disturbo psichiatrico e quindi sono stati affrontate queste tematiche con l'intervento farmacologico, ma è stato un disastro. Questo perché sembrava che ci fossero delle problematiche legate alla psicosi e alla schizofrenia, dove effettivamente c'è anche un ritiro sociale. In quel periodo iniziavano ad esserci i primi chicomori e per esserci questa caratteristica ci deve essere un ritiro di almeno 6 mesi. Quelli che erano i primi chicomori, quindi avevano un ritiro sociale per un po' di mesi e di anni, col passare degli anni all'inizio degli anni 2000, sono state persone che vivevano in casa ritirati anche per più di 40 anni. Quindi è un fenomeno che si verifica soprattutto nella fase adolescenziale ed è connessa anche al ritiro scolastico. Attualmente in Italia ci sono circa 100 mila casi accertati, in Giappone invece più di un milione di casi accertati. Però queste situazioni sono in aumento, cioè il fenomeno del ritiro sociale sta aumentando. In modo particolare questo si è verificato dopo il periodo del lockdown. Mentre negli chicomori c'è un ritiro di tipo volontario, quindi la persona decide di ritirarsi volontariamente. In quel caso il ritiro non è stato volontario, però c'è stato un aumento dell'utilizzo dei dispositivi. Ed è aumentato quello che è il discorso dell'ansia e della fobia sociale, che è un'altra caratteristica degli chicomori. Perché in quel caso gli adolescenti iniziano ad effettuare la loro protesta, la loro ribellione, non tanto andando in piazza, ma quanto proprio ritirandosi dalla società. Perché da parte loro c'è una critica, una dimensione di aggressività nei confronti della società. E quindi l'ichicomori è un po' visto anche come un disturbo di tipo adattivo. L'adolescente non riesce a diventare autonomo e si ritira completamente dal contesto sociale, dal contesto amicale e dal contesto familiare. Senti, che differenza c'è tra l'eremita di un tempo e l'ichicomori moderno? Allora, intanto l'eremita di un tempo stava a contatto con la natura, quindi c'era questa dimensione anche un po' bucolica, di meditazione, di riflessione. Al contrario l'ichicomori tende a stare in un ambiente dove non c'è armonia, perché spesso la stanza di l'ichicomori è molto disordinata e piena di rifiuti. Tant'è vero che a volte ci sono stati degli interventi da parte del governo giapponese forzati. Cosa significa? Che le persone, le autorità entrava in casa, nella stanza del ragazzo adolescente e cercava di portarlo fuori a forza. Ma chiaramente questi interventi non hanno portato a nessun tipo di soluzione. Quindi l'ichicomori rispetto all'eremita non ama il contatto con la natura, non ama il senso dell'armonia. C'è proprio poi anche una difficoltà a stare in relazione col proprio corpo, quindi rifiuta tutto ciò che non è virtuale. Ok, ma visto che questo è un fenomeno, come sottolineavi tu, che è iniziato parecchi decenni fa, oggi il ragazzo che vuole isolarsi dal mondo ha comunque uno strumento che lo porta all'interno del mondo, che è il web. Ma prima, cioè, che cosa facevano di fatto questi ragazzi che si isolavano completamente per restare nella loro stanza? Sì, questa è una riflessione interessante perché questo fenomeno si è sviluppato proprio prima del sviluppo digitale. Per cui questi ragazzi stavano soprattutto in casa perché una delle cose che si è riscontrata era la paura di confrontarsi con i coetani. Quindi c'era il fatto di andare a scuola ma con molta ansia, la paura di confrontarsi a scuola, anche perché spesso questi ragazzi venivano bullizzati. Quindi si sentivano perseguitati da parte dei loro coetani e spesso anche non difesi a livello della famiglia o a livello anche degli insegnanti. E quindi la cosa che facevano era stare proprio ritirati in casa e magari leggendo, ma soprattutto c'era una difficoltà anche a fare attività fisica, a muoversi. E uno degli obiettivi principali era quello di non interagire anche con nessun membro della famiglia. E l'obiettivo era essere ritirati come segno di protesta e di ribellione a livello sociale. Beh, sembra veramente incredibile, no? Perché effettivamente, come dici tu, cioè un segno di protesta così forte, un genitore davanti a questo, insomma si sente veramente impotente, perché poi se nemmeno la polizia, come sottolineavi tu, riesce a fare qualcosa o riesce a essere un deterrente, no? Perché magari un ragazzo, un adolescente, guarda che in casa entra la polizia, cioè quantomeno avere un po' di timore delle conseguenze di queste cose, che poi, voglio dire, alla fine non ci sono reati, però sempre che è una sorta di imposizione che viene dall'alto. Quando invece un genitore si trova davanti a queste situazioni, come deve comportarsi? Allora sì, intanto è importante vedere che il braccio di ferro tra la famiglia e il ragazzo adolescente non può portare ad un risultato positivo. Quello che si effettua generalmente è utilizzare il loro stesso strumento, cioè connettere la persona online. Quindi si fa un lavoro di intermediazione, per cui la famiglia chiaramente è la prima a chiedere aiuto, però poi per effettuare un discorso di alleanza, di collaborazione con il ragazzo, con l'adolescente, è importante contattarlo online. E spesso che cosa accade? Proprio perché c'è anche una difficoltà a interagire col proprio corpo, il ragazzo che ha questo tipo di problematica tende a presentarsi anche coperto, incappucciato, proprio perché si nasconde a questa difficoltà anche a rapportarsi col proprio corpo. Teniamo conto che l'adolescenza è proprio anche una fase in cui c'è l'aspetto della mentalizzazione, quindi di prendere consapevolezza anche di quella che è l'aspetto della percezione corporea. E spesso ci sono degli adolescenti che hanno delle difficoltà a rapportarsi col loro corpo e c'è anche un aspetto legato allo sviluppo psicosessuale. Quindi bisogna rispettare e andare proprio con passi molto cauti e cercare di creare un po' di alleanza, poco per volta, senza assolutamente essere invadenti, perché quello che si rischia è una chiusura totale e allora poi è impossibile effettuare una collaborazione di qualsiasi tipo. Quindi insomma una sorta di fiducia che viene acquisita giorno dopo giorno? Sì, poco per volta, proprio perché questo aspetto che è soprattutto evidente in Giappone è legato anche alla vergogna, quindi ad una dimensione che è stata analizzata da uno psichiatra giapponese in un libro molto importante per questa sindrome dell'Ikikomori che è Anatomia della Dipendenza. In questo testo vengono evidenziati quelli che sono gli aspetti socioculturali della famiglia giapponese e viene ripreso un concetto che è legato proprio anche alla dipendenza, all'interdipendenza tra la madre e il figlio maschio. Perché si sottolinea l'aspetto del figlio maschio? Perché la caratteristica dell'Ikikomori è proprio quella di essere soprattutto un ragazzo con un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, una persona molto introversa, appartenente generalmente a una famiglia benestante di professionisti che ha paura di competere col mondo esterno, che ha paura di esporsi socialmente sia a livello scolastico che a livello professionale. Non dimentichiamo che il Giappone è una società molto competitiva, dove quindi sin dalle prime scuole elementari in poi vengono previsti dei test d'ingresso per accedere a delle scuole di eccellenza. Ok, quindi è una mentalità forse diversa dalla nostra, ma anche noi ci stiamo arrivando, anche noi siamo sul pezzo in tal senso, perché anche in Occidente si sta sviluppando proprio questa modalità della scuola che anche questa rende gli alunni competitivi, perché il mondo del lavoro è competitivo anch'esso. Quindi sicuramente dovremmo farci qualche domanda anche a livello sociale, perché la cosa che ti vorrei chiedere è come mai dal Giappone questa cosa è migrata in Occidente, se è un puro caso, cioè nel senso se le cose comunque sarebbero andate così, quindi un po' come dire un sentire comune, oppure una moda, quindi un'esportazione proprio di usi e costumi? Non è tanto una moda, anche se sicuramente c'è il fatto di seguire magari le anime, i manga e quindi all'interno di questi racconti, di queste narrazioni c'è sicuramente un atteggiamento di ritiro. Ad esempio è molto interessante, lo suggerisco a chi fosse interessato a questa tematica, un anime che si chiama proprio Welcome to NHK, che parla proprio di questo ragazzo che vive nell'entroterra di Tokyo, quindi nella campagna giapponese e poi decide di trasferirsi in città, però è abituato ad una dimensione di vita molto naturale, poi sente di non poter competere con quelle che sono le caratteristiche legate al perfezionismo e quindi si ritira, si isola completamente e decide di vivere all'interno di una stanza. C'è da dire un'altra cosa, che l'Italia attualmente è il paese in Europa dove ci sono più casi di chi comori e questo dipende anche da degli aspetti socioculturali, cosa significa? Che spesso, sempre di più, i ragazzi vivono a casa con i loro genitori anche in età ormai adulta, quindi oltre i 30 anni e a volte viene visto questo come giustificazione legata alla difficoltà di trovare lavoro, ma in realtà c'è proprio un aspetto di vulnerabilità, di fragilità narcisistica che porta ad avere paura di inserirsi nel mondo del lavoro e c'è anche un rapporto di forte dipendenza con la figura materna. Sì, e poi lo dicevi tu, questo discorso della vergogna sociale, forse noi italiani, non lo so, io immagino che noi italiani siamo sfrontati, quindi il fatto di pensare che anche l'italiano possa soffrire di vergogna sociale, non so, è un pensiero lontanissimo per il mio modo di sentire, però tu da psicoterapeuta che cosa potresti dire al riguardo? Allora, intanto sono sicuramente due tipi di vergogna sociale molto differenti, perché quello che salta all'occhio in Giappone è proprio un rispetto dell'altro e una dimensione per cui prevale la dimensione collettiva rispetto a quella individuale, mentre invece in Italia prevale l'opposto, quindi c'è una dimensione individualistica che prevale sulla dimensione collettiva. La vergogna è proprio di tipo diverso, perché in Italia è sicuramente legata molto di più al senso dell'apparenza, della dimensione anche dell'apparire sui social e di essere sempre connessi, ma di essere sempre connessi e di non essere mai esclusi, che poi è anche un po' legata a quella che viene denominata la FOMO, cioè la paura di non essere interni ad un gruppo, che poi è l'opposto del GIOVO, cioè la paura invece di non poter aderire a quel tipo di gioia, mentre al contrario in Giappone c'è un tipo di vergogna legata alla corporeità, al sentirsi sempre inadeguati, si cerca di non prevalere e c'è anche un po' un aspetto legato alla sottomissione e tant'è vero che ad esempio l'utilizzo delle mascherine che noi abbiamo scoperto solo alcuni anni fa in Giappone è da sempre presente ed è anche un po' una moda, cioè non necessariamente utilizzata per proteggere l'altro da un eventuale contagio, ma anche proprio per coprire un po' quello che è il viso, che viene visto come un aspetto legato all'imbarazzo, infatti quando le persone sorridono spesso tendono a coprirsi la bocca, quindi sotto questo aspetto noi siamo proprio agli antipodi, è una vergogna sociale completamente diversa. Sì, sicuramente sono parecchie le differenze, ecco perché ti dicevo che è strano come questo fenomeno possa aver avuto appeal nel nostro paese, ma evidentemente perché cambiano anche le nostre dinamiche, quindi forse siamo cambiati noi in questi anni, forse la tecnologia ci ha reso tutti uguali? Allora sicuramente c'è un discorso legato alla competizione, al dover emergere, alla dimensione dell'adolescenza e anche alla dispersione scolastica, perché se un ragazzo ha delle difficoltà a livello scolastico, quello che tende a fare se non è sostenuto dalla sua famiglia è quella di ritirarsi e poi c'è l'aspetto della dipendenza tecnologica, perché l'utilizzo della dimensione virtuale e chiaramente non vogliamo demonizzare l'aspetto di tutto ciò che è legato alla dimensione virtuale, se però eccessiva, quindi la dimensione virtuale è privata proprio su quella della relazione umana, chiaramente porta ad avere una difficoltà relazionale ed emozionale, quindi porta l'adolescente ad avere difficoltà a gestire le proprie emozioni, a confrontarsi con le proprie emozioni, con quelle degli altri, quindi spesso nella sindrome dell'ichicomori c'è anche la dipendenza da internet, ma non è assolutamente l'aspetto prioritario, poi ci sono varie fasi dell'ichicomori, per cui c'è una prima fase che generalmente è proprio legata alla paura di andare a scuola, ma il ragazzo tende ancora a forzarsi, poi c'è la seconda fase nella quale la persona non desidera, non ce la fa più ad andare a scuola e quindi evita il contatto a livello sociale, poi c'è la terza fase che è la fase proprio più cronicizzata, che è caratterizzata da persone che non escono non solo di casa, ma dalla loro stanza anche per anni. Sì, e con le conseguenze che abbiamo visto. In Giappone c'è anche un concetto particolare, il concetto di amae, che cos'è? Allora sì, è un concetto che è difficilmente traducibile nella lingua italiana, ma che possiamo tradurre con interdipendenza, dipendenza e che è legato sempre al testo Anatomia della dipendenza, dove tratta proprio del rapporto della diade che c'è a livello simbiotico tra la madre e il figlio maschio. Per cui c'è uno scambio da parte di questo rapporto e il figlio sente di dover aderire alle richieste narcisistiche della mamma e la mamma in qualche modo sostiene il figlio, ma c'è una dimensione che è prendersi cura del figlio, garantendosi però il fatto che non possa essere autonomo e generalmente c'è la figura di un padre assente emotivamente e molto autoritario. Quindi in qualche modo il figlio per sottrarsi a questo tipo di dipendenza con la mamma tende a rifugiarsi nel proprio mondo, che è un mondo soprattutto virtuale e che è legato semplicemente ad un contesto spaziale che è quello della propria stanza. Senti, spiegami la differenza che c'è tra questa madre e una qualsiasi madre italiana che è coccolona nei confronti del figlio maschio. Sì, qui si apre un grandissimo capitolo perché in qualche modo questo dipende dalla coppia sentimentale e genitoriale, quindi se c'è una buona coppia che funziona a livello sentimentale e genitoriale, il figlio non ha un ruolo di compensazione nella vita della madre, mentre invece se c'è una figura di riferimento paterna assente emotivamente e comunque la mamma non ha un suo equilibrio a livello proprio di autorealizzazione personale e professionale, tende a sovrainvestire nei confronti del figlio e quindi il figlio diventa un po' la motivazione della sua vita, ma questo figlio non deve crescere o meglio cresce dal punto di vista biologico, dal punto di vista dell'età, ma dal punto di vista dell'emotività deve restare piccolo, quindi c'è un po' questo aspetto manipolatorio, cioè tu sei la persona che riempie la mia vita, sei la luce dei miei occhi, però non puoi avere un tuo ruolo in cui ti affermi, in cui sei autonomo, quindi questo poi si presenta e si manifesta un po' in tutte le culture, ma è interessante vedere il concetto di dipendenza e di simbiosi che si presenta nell'ambito della cultura giapponese e come ci si differenzia appunto dalla cultura italiana. Esistono situazioni di questo tipo in cui ci sono donne che vengono lasciate completamente da sole con i bambini, quindi forse è qui che si manifesta? Allora sì, è proprio una cosa molto delicata e anche molto complessa, perché questo ci rimanda poi a delle fasi psicoevolutive che sono la fase edipica, la fase predipica, per cui dipende molto dalla figura di investimento e anche da come si sviluppa l'ambito psicoevolutivo all'interno della famiglia. Quindi è vero che se c'è una buona armonia a livello di coppia genitoriale sentimentale, quindi il figlio maschio sente che ha la sua spinta, il suo diritto all'autonomia, c'è proprio una fase della vita in cui noi dovremmo tendere ad affermarci e a diventare autonomi, però per fare questo è importante che ci sia una solidità, una solidità emotiva interna, che ci sia un io strutturato per cui la persona assente di poter affrontare il mondo. Al contrario, se invece non c'è una struttura solida, c'è proprio una paura ad affrontare il mondo e quindi la famiglia, anche se viene vissuta come un elemento soffocante, ristretto, comunque diventa l'unico ambito nel quale la persona si sente un po' protetta e al sicuro. Senti, da ultimo, connesso con il fenomeno degli kikomori, c'è anche quello del cyberbullismo? Sì, le due cose sono strettamente collegate perché talvolta i ragazzi che hanno questa sindrome si sono sentiti perseguitati nell'ambito scolastico e si sono rifugiati proprio per non sentirsi dominati da a volte offese anche molto pesanti a livello scolastico, a livello corporeo e a volte si sono ritrovati però perseguitati dalle stesse persone nell'ambito di internet online e quindi c'è una forte connessione e questo si è visto che è aumentato negli ultimi tempi ed è aumentato soprattutto dopo il periodo della pandemia, proprio perché le persone hanno sentito di più l'elemento dell'aggressività, della frustrazione e quindi hanno purtroppo espresso la loro aggressività anche attraverso il cyberbullismo. Cristina grazie per essere stata con me, saluto e ringrazio la dottoressa Cristina Ombra, alla prossima. Grazie a te Beatrice, alla prossima. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Grazie a tutti.